Il PM antimafia Catello Maresca è solo uno dei napoletani illustri che saliranno sul palco del Teatro Acacia il prossimo 23 novembre per ricevere il premio Napoli C'è. Ideato dalla rivista mensile all'espresso napoletano, edito da Roggiosi, l'evento è giunto alla sua undicesima edizione. Tra le novità del 2015 una creazione dell'artista Lello Esposito che sarà conferita all'attore Alessandro Siani per la trasposizione teatrale del film Il Principe Abusivo di cui firma la regia. L'intero programma è stato presentato questa mattina nella sede dell'Università Telematica Pegaso da Rosario Bianco, patron di Roggiosi. Noi premiamo la normalità, quello che per altri può sembrare un'eccezione, per noi premiamo la normalità, Napoli anche questo, non è soltanto quello che vogliono descrivere o quello che ogni giorno cercano di forzatamente dimostrare al mondo intero. Noi siamo persone, noi napoletani, che lavorano, operano, fanno bella questa città. Ci sono i momenti oscuri, ci sono le oscurità, ma in tutte le città ci sono punti di oscurità. Noi abbiamo tantissimo sole, siamo una città solare, siamo una città laboriosa e noi premiamo la laboriosità.